Eccoci qua. Buongiorno, buonasera, o buonanotte, o buon mattino, che sia. Allora, io sono qua oggi per presentare molto in breve quelli che sono i corsi da me proposti. Allora, io sono Donatella Bartolomei, cantante, attrice, insegnante di canto e di recitazione. Bene, per dirla in breve, in realtà io mi considero una ricercatrice del suono, della voce, della teatralità. Infatti il mio lavoro è molto incentrato, la mia ricerca soprattutto è molto incentrata sulla sperimentazione. Sperimentazione vocale, sperimentazione teatrale, in particolare, e musicale e sonora. Collaboro anche con il mio compagno, per esempio Alessandro Conedera, proprio nell'ambito sperimentale col progetto Alchimia Nova, ma non è l'unica cosa. Comunque, questo è l'ambito artistico di cui io stasera non vi parlo. Quello di cui voglio parlare questa sera, invece, è l'ambito didattico, ovvero quali sono i corsi che io propongo. Dunque, la maggior parte dei corsi che propongo sono legati alla voce, in quanto la voce è il mio soggetto principale. Ma non solo la voce unita al corpo, del teatro, per esempio, ed altre modalità espressive, che ora vi elencherò. Allora, partiamo proprio dalla voce. Canto, per l'esattezza canto moderno, è uno dei miei corsi principali, proprio perché io, come cantante, come tecnica della voce, il canto è una delle mie modalità espressive più spontanee, che io pratico da più lungo tempo, per la quale ho studiato molto e con passione e continuo a studiare. Canto, corsi di canto, io li propongo a tutti i livelli di studio, nel senso dalla persona principiante, totale, che non ha mai fatto nulla, che si deve costruire da zero un'ottima tecnica vocale, alla persona, fino ad arrivare alla persona con tantissima esperienza, magari anche professionista, e che si voglia specializzare in determinati ambiti. Per esempio, ambiti da me molto amati e praticati, che sono il canto jazz, per esempio, e la sperimentazione vocale. Ecco, ma non solo, però per fare degli esempi, quindi canto. Canto, a fianco al canto, anche la sperimentazione vocale pura. Ci sono persone che decidono, è raro, accade rarissimamente, ma qualche volta qualcuno decide di studiare sperimentazione vocale, che comunque poco si discosta dallo studio del canto, per una buona parte di lavoro, che è quella della costruzione o il miglioramento di una eccellente tecnica vocale. Poi, ovviamente, il mondo della sperimentazione vocale si apre a mille cose. Chi non ne sa proprio nulla, può venire ad ascoltare dei miei lavori, che si trovano su internet, come tutti i lavori marchiati, diciamo con i miei progetti, Voce Sacra, Dea Luna, Alchimia Nova, che ho citato prima, oppure anche il mio progetto, il mio album prodotto in Germania, Sacra Dea, ne è l'esempio più lampante, forse, di tutti, e tante altre cose mie che si possono trovare. Comunque, un aspetto di cui parlerò in altri video, in cui appunto voglio proprio parlare in modo specifico della sperimentazione vocale. Quindi, canto, sperimentazione vocale. Altro corso per appassionati di un certo mondo, o che desiderano affrontare queste cose particolari, è sperimentazione vocale e teatrale insieme, che è tutto un percorso che si basa proprio sulla mia ricerca personale, sul mio stile che ho costruito proprio sui lavori, i miei lavori di teatralità e di vocalità sperimentali. Poi, corsi di teatro, corsi di teatro, diciamo così, più, diciamo, tradizionali, anche se nel mio modo di lavorare non c'è molto di tradizionale. Sì, riprendo a della buona tradizione, che io considero buona tradizione, quello sempre e comunque, certo. Ma poi si va a creare, vado a personalizzarli con quelle che sono le mie esperienze, con quelli che sono i miei obiettivi, con quelli che sono le mie competenze, e quello che mi piace fare, fondamentalmente, e che trovo bello insegnare. Laboratori teatrali, corsi di teatro, a tutti i livelli. Il lavoro teatrale è qualcosa di bellissimo e di emozionante. Quando poi si arriva alla creazione di uno spettacolo di saggio, si arriva alla costruzione di certi lavori, io vi dico, è qualcosa di estremamente appassionante. Ma ne parlerò in un video specifico, farò un video apposta sul teatro. Questo vuole essere un video generico, in cui presento quelli che sono i corsi da miei proposti. Quindi abbiamo detto canto, sperimentazione vocale, sperimentazione vocale e teatrale insieme, laboratori teatrali. Per restare, diciamo, in ambito sempre di voce, legato al teatro e legato al canto, spesso vengono proposti come seminari, più che come corsi, ma sono possibili sia come corsi che come seminari, dizione e tecnica vocale, dizione della lingua italiana, unita a tecnica vocale e in quel caso del parlato, e reading o lettura ad alta voce, che è un altro aspetto molto interessante, di cui ho già parlato in un video di recente, di queste materie, anche se molto in breve, come presentazione. Poi ci sono tutti quei corsi, quei seminari molto creativi, che si uniscono al mondo sperimentale, che sono quei corsi e quegli stage, che a me piace creare, proprio per unire, diciamo, per utilizzare, diciamo così, il teatro, la musica e la voce, al fine di favorire lo sviluppo della creatività personale, e non solo, anche al fine di cercare proprio di favorire i propri talenti, di trovare quelli che sono i propri talenti, o comunque cercare di muovere i primi passi alla scoperta di talenti creativi che ci possono servire. Questi sono corsi, per esempio, che non sono indicati soltanto, vabbè che nessuno di questi corsi è indicato soltanto a una categoria di persone, o a chi ha quella esigenza e basta. Però, a maggior ragione, questi corsi non sono dedicati in primis a chi vuole calcare un palcoscenico, a chi vuole fare uno spettacolo, a chi magari vuole fare anche solo un saggio, ecco, ma sono proprio indicati a chi vuole favorire, sviluppare i propri talenti, anche se non ha nessuna intenzione mai di cantare una canzone in pubblico, in vita sua, o non ha intenzione di fare teatro, nel senso anche attivo del termine. Non so se mi sono spiegata. Comunque ne parlerò di questi percorsi. Ne ho creati vari, teatro ai tarocchi, gioco di maschere, giochi simbolici. Ne ho diversi, e li continuo ad elaborare, ne continuo ad elaborare di nuovi. Poi tornando a aspetti più teatro-voce, in modo specifico, mi piacerebbe riproporre il corso di musical, ecco, corso di musical, ma qui devo fare una specificazione, perché io come musical mi occupo, diciamo, soltanto di due dei tre aspetti del musical, perché il musical ha fondamentalmente tre materie in sé, canto, recitazione e danza. La danza non è una mia materia, non ho nessun problema a dirlo, quindi diciamo che riguarda soltanto gli aspetti di canto e di recitazione. Però io ho fatto una mia formula di... Ecco Martino, il mio gatto che salta, vedete, da dietro. Una mia formula di questi corsi. Una l'ho chiamata musical surreale, che si in qualche modo ripesca nella sperimentazione vocale, musicale e teatrale, ma in modo, diciamo così, giocato un pochino diversamente. Spiegherò anche questo in una presentazione più accurata. E in passato ho lavorato al mio tributo a The Rocky Horror Show, proprio come musical, anche come corso, non solo come spettacolo che abbiamo portato in giro, ma anche come corso, ma è nato poi in realtà come corso, e anche quello lo voglio riproporre appena sarà possibile, perché di questi tempi il corso di musical non è praticabile. Sì, si possono fare i corsi online, ecco, specifico. Tutti i corsi miei che ho citato fino adesso sono proponibili anche nella formula online, che in questo momento è praticamente d'obbligo in quasi tutti i contesti, poi dipende dai periodi, quindi di mese in mese le cose anche cambiano leggermente. Ma il corso di musical, secondo me, dal mio punto di vista, richiede la presenza necessaria. Ecco, mentre con teatro, che può sembrare a qualcuno strano e difficile, ma volendo si può proporre anche online, almeno per un periodo, ecco, musical, dal mio punto di vista, la vedo un pochettino più dura. Quindi anche Tributo a The Rock Your Road Show o musical surreale, diciamo che li rilancerò nel momento in cui si potrà tornare a fare le cose di persona, mentre tutti gli altri corsi sono già possibili adesso. Per entrare anche in corsi, diciamo, che non sono magari i principali che io propongo, sia come corsi che come stage, c'è anche quello di public speaking, ovvero il parlare in pubblico. Ecco, sottolineo e spiego che il mio corso di parlare in pubblico magari non assomiglia ad altri, perché io non ho una formazione di tipo aziendale, perché spesso questi corsi di parlare in pubblico, non sempre, ma molte volte sono fatti per i venditori, per chi decide, insomma, di ottenere anche delle competenze dal punto di vista del mercato. No, io la mia formazione è da artistica. Ecco, non è di quel tipo lì. Quindi il mio modo di insegnare, diciamo, la tecnica del public speaking è più per arrivare a una comunicazione sia formale buona e sia sostanziale autentica. Quindi, riassumendo i corsi che ho citato fino adesso, canto, sperimentazione vocale, sperimentazione teatrale, e vocale possono anche camminare insieme, teatro, laboratori teatrali, corsi di recitazione, dizione tecnica vocale del parlato, reading o lettura ad alta voce, poi ho citato musical, sia nella formula musical surreale che nella formula di tributo a The Rocky Horror Show, che mi piacerebbe rilanciare, quello è qualcosa che ancora devo rilanciare, per questo lo sto dicendo a fine lista, e poi anche public speaking o parlare in pubblico. Ma farò, e sto già facendo, dei video di presentazione specifici sulle determinate materie. Ne farò anche altri, in pillole, per lanciare invece degli argomenti inerenti a queste materie. Perché? Perché poi in realtà mi piacerebbe, oltre che lanciare anche delle lezioni di prova online, cosa che sto anche già facendo, lezioni di prova online, su varie di queste materie, anche delle lezioni fruibili assolutamente da tutti in qualsiasi momento, singole, che vorrei anche mettere già come pre-registrate, sempre come modalità di presentazione. Per il resto, io resto a vostra disposizione, scrivetemi pure per qualsivoglia domanda su questi argomenti. Grazie.